Saranno discusse tutte insieme il prossimo 29 gennaio le posizioni di Melchiorre Fidelbo, marito della senatrice del PD Anna Finocchiaro di Giuseppe Calaciura, Antonio Scavone e Giovanni Puglisi, all'epoca dei fatti funzionari dell'ASP di Catania, imputati per truffa, aggravata e abuso d'ufficio nell'ambito del processo sull'appalto senza gara del sistema di informatizzazione del PTA di Giarre. I legali della difesa hanno chiesto ai giudici della terza sezione penale del Tribunale di Catania, presiduta da Rosanna Castagnola, un rinvio garantendo la conclusione di tutte le arringhe alla prossima udienza. Nessuna obiezione da parte del pubblico ministero Alessandro Larosa, che nel corso della precedente udienza, al termine della lunga requisitoria, ha chiesto per i quattro imputati l'assoluzione dal reato di truffa, aggravata e la condanna ad un anno per abuso d'ufficio. Se non ci saranno repliche dopo le arringhe difensive, i giudici potrebbero ritirarsi subito in Camera di Consiglio.